Conoscendo i temi della sicurezza e della sostenibilità alimentare, possiamo giudicare se le nostre scelte alimentari incidono sulla nostra salute e su quella dell'ambiente. Il cibo costa tanto all'ambiente in termini di acqua, suolo, energia e lavoro dell'uomo. E allora? Il cibo diventa dono nell'emporio solidale di Taranto. Il tema del contrasto al caporalato è centrale nel nostro progetto. Il cibo diventa dono nell'ambiente. Il cibo diventa dono nell'ambiente. Grazie a tutti.